Non dobbiamo dare i fondi agli stati autoritari e totalitari. Questo vale per i paesi in via di sviluppo, questo vale per i paesi che vogliono aderire all'Unione Europea, questo vale per i paesi membri dell'Unione Europea che virano le libertà fondamentali o che virano i diritti di minoranza, ad esempio l'Ungheria di Orban.